di riuscire a diventare socio come sono diventato io, grazie al bene di Roma dopo tre anni consecutivi come è diventato Davide per esempio che è qui con noi come è diventato Davide, quindi sono 20 euro l'iscrizione dell'anno, sono possibili a tutti e quindi questi tre anni con questo movimento pianistico riesci a diventare socio del club cosa che prima era quasi impensabile e te lo sai bene Max perché sei di lunga data tifoso quindi siamo riusciti tutti insieme, tutti insieme perché bisogna dire che anche Vittorio della Pena di Torino come ho detto prima il ragazzo Pietro che è qui con noi, tutti siamo riusciti perché se non c'è coalizione nelle cose non si può riuscire invece siamo riusciti a essere tutti facendo un passo verso l'altro e siamo riusciti a creare un movimento che penso che sia veramente anche visto benissimo a piani alti del club perché ne parlano sempre bene ci vengono sempre a trovare, sono sempre molto gentili nei nostri confronti abbiamo installato una bellissima collaborazione e questo va dal merito di tutti e di tutti noi penso che sia la cosa più bella degli ultimi anni sia proprio questa, la trovata, ci siamo trovati siamo tutti insieme le pene, l'assù abbiamo fatto la mostra sono tutte cose che prima un tifoso del Barca si sarebbe sognato di fare e invece oggi grazie a tutto il lavoro nostro bisogna prenderci anche i meriti e siamo riusciti a fare e questo penso sia la più grande vittoria del movimento italiano Giuseppe tu non sei voluto venire insomma però l'hai seguita come direttivo della Pegna di Napoli l'hai seguita sui social e qui vorrei che però prima di lasciare la parola a Giuseppe Sergio dicessi una cosa che ha scritto su Facebook importante sulle redi sociali Chi è Sergio? Oh non mi ricordo Come non ti ricordo? Quello che siamo una grande famiglia No, tu hai scritto che qua è troppo forte Sergio è uno che ne scrive tante quindi non si può ricordare Hai detto che quando i social sono utilizzati nel modo corretto e poi le cose vengono fatte bene, sono anche belle, si realizzano dei sogni, si fanno cose importanti Ma l'ho scritto io, sei sicuro? Sì che adesso te lo vado a prendere Sì sì, aspetta che lo stavo ricercando perché me lo ricordo anch'io questo momento È sul posto di Giussi È sul posto di Giussi Sì, è sul posto di Giussi Beh, dopo io volevo dire una cosa ai cecchini Ovviamente in maniera ironica Certo Prima di tutto voglio ricordare che Davide è diventato socio del Barcellona grazie alla Pegna Sicilio e alla Pegna Lombarda e questo è un piccolo particolare E poi, i tre anni di soci i tre anni di soci e la Pegna per diventare soci Esattamente per voi perché se eravate i miei nipotini tac, automaticamente lo eravate No, aspetta È una battuta ironica Lo eravamo Lo eravate perché ero già socio Davide, Davide Ti rispondo così Davide E io e te ci capiamo Quando lo dicevo io È vero, è vero, è vero C'è chi che è diventato un po' commentato È il mio commento Dato Non ricordate Dato E voi siete giù Comunque L'ho ritrovato il commento di Sergio L'hai ritrovato, vai Vai, vai Giuseppe Vai, allora scrive Sergio Se si usano bene I social sono una cosa meravigliosa Conosci gente fantastica E voi tutti Non elenco nessuno Per non dimenticare nessuno Siete la mia famiglia blaugrana Vedi sei Comunque Sei stato proprio Mamma mia Che romano Che profondità Che profondità Che profondità di pensiero Esattamente Ho un certo Che ho dico le cose Che mi stupisco anch'io Ma secondo me Non l'ha scritto lui C'era l'ufficio C'era l'ufficio stampa Che gliel'ha scritto L'ufficio stampa Del cuore di Balena Allora Io mi ricordo La prima volta Che mi sono sentito Con Massimiliano in radio Sì Lo avevo detto subito La famiglia blaugrana È vero È vero È vero Ed è quello Che si è vissuto In questi anni Perché dalla prima telefonata Con te Massimiliano Tu passati qualche anno E noi ci conoscevamo Neanche personalmente Esatto 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 Sono passati cinque anni Sono passati cinque anni Sono passati cinque anni Esatto Come tanti di voi Sintonia perfetta Ma Ci sono conosciuti bene Alla trovata Con te Fabio Con te Giuseppe È vero Con Davide Che abita A trenta chilometri da me Ci sono visti qualche volta di più Ma la sintonia è stata perfetta Perché? Perché Siamo una grande famiglia Se c'è bisogno Di dirci qualcosa E litigare Lo si fa Certo Ma Come se Siamo fratelli I fratelli Come dice Filippo Siamo i fratelli blaugrana Ha ragione Ha ragione Ha ragione No ma poi Poi ci sta benissimo Come tutte le cose Che uno la pensa in una maniera E uno la pensa in un'altra Basta confrontarsi con rispetto E educazione Poi È anche bello Confrontarsi Tra idee diverse Se no non cresceremo mai Io penso che Le idee diverse Portano sempre a un motivo di crescita E se uno invece La pensa in una maniera E tutti sempre vanno dietro al tempo A quel pensiero Non cresceremo mai Quindi è giusto invece anche Parlarne Discuterne E confrontarsi Certo 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 Allora Giuseppe Diciamo Tu insomma Tu non hai Potuto particolare Però hai seguito Sui social Certo Questo poi ce lo spieghi Ci racconti un po' come Come è andata E se siamo stati bravi A far conoscere in tempo reale Quello che stava accadendo E poi insomma Anche te due parole Per quella Hai partecipato fin dall'inizio Te Pedisso e Fabio Fabio era Come ha raccontato Era pegnista di Berga Ma certo Si ha fatto una scommessa Di iscriversi a una pegna Che non era ufficiale Tu Uguale Pedisso Uguale Insomma E poi La partecipazione Alla radio E la creazione All'interno Della giunta direttiva Della sezione Del sud Italia Quindi Cioè Ste cose Poi La programmazione Il lavoro Ha portato A risultato In Napoli Allora Io Allora Io posso dirvi Che ho seguito Ho detto Mi è dispiaciuto Davvero Tanto Non essere presente Però Ho seguito Davvero In maniera Così Ravvicinata L'evento Perché Devo essere onesto La comunicazione Fatta Via social Da Tutti voi Da Anche e soprattutto Da Giussi Le tante foto pubblicate I tanti video I video della partita I video in metropolitana Insomma Sono stati davvero Molto Molto belli Insomma Anche la durata Dei video Mi ha permesso Anche per un momento Di far Più di un momento Di far parte Anch'io Di voi Anche se ero Ero distante Però è stata È stato Sicuramente Organizzato Tutto benissimo Ripeto La comunicazione Via social È stata fantastica E Come forse Ecco Diceva Davide Prima È stato forse Più il momento Vissuto insieme Che la partita In sé Però Effettivamente Perché Sembrava come se fosse Un grande ritrovo Un grande raduno Una grande festa Ecco Diciamo così Io l'ho vista In questo modo Come se fosse Una grande festa Di tanti amici Che si ritrovano Un po' Da tutte le parti Per Festeggiare la squadra Per festeggiare Questa grande famiglia Che appunto È la famiglia Delle penie Ed è Quella di Napoli Soprattutto Una penia Annata Così come quella Di Roma E tutte le altre Con la costanza Con la programmazione Con la passione Appunto Di ognuno Di noi Dei presidenti E poi Soprattutto Dei soci Successivamente Come dimenticarmi L'inizio Appunto Quello della penia Blaugrana Di Roma Che non era Ancora ufficiale Vero Non era ancora ufficiale Però subito Io, Francesco Fabio Eravamo già Con Max A tenere i primi Programmi radio I primi ospiti Insomma È stata davvero Un'esperienza Molto emozionante Che se solo Adesso Ripenso un po' All'excursus Mi viene da Quasi a dire Ne sono passate Veramente tante È passato tanto tempo E siamo cresciuti Tutti quanti Insieme Sotto ogni aspetto E Davvero Le parole Si sprecano Perché Oggettivamente Quello che si è creato A livello italiano E penso Che possa essere Un grande esempio Per tutti Da Da cui prendere Spunto Assolutamente Quindi Sì Io sono anche Contentissimo Adesso Di far parte Della penia di Napoli E Che rappresento Oltretutto Il sud Italia E Niente Quindi Spero Prossimamente In altre manifestazioni In altre sicuramente Stando A quello che ormai Sono tutte le nostre Pende Così unite Sicuramente Avremo modo Di ritrovarci ancora E sicuramente Di organizzare Altri eventi Meravigliosi Come quelli Che sono stati fatti Negli ultimi tempi Dalla Trobada Fino appunto Alla trasferta Di Napoli Allora Allora Grazie Giuseppe Io direi Che prima di salutare Pietro E Sergio Volevo Insomma Sapere Da Pietro Il classico Dove Dove lo fa La Lombarda A proposito Sto pensando Di fare la Lombarda Ma io A proposito Ma voi Cioè A Milano Come in Lombardia Casomai Davide Pure Mi aiuti su questo C'è ancora questa cosa Che fino alle 18 Devono stare Dopo le 18 Devono chiudere I pub No Io so che L'hanno revocato Questa cosa qua L'hanno revocata Davide? No Sì Un paio di giorni fa È uscita l'ordinanza Che hanno tolto Il divieto Di Di andare Ai pub Ai locali Di sera Quindi 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 La partita Diciamo Verrà trasmessa Pietro Lì a Domenica Domenica Ok Domenica È confermata C'hanno C'hanno Ricerbata La saletta Appattata Benissimo Certo Perché c'è Juventus Inter Allo stesso orario Sì E a porte chiuse A porte chiuse Certo Certo Quindi Perfetto Quindi Per chi Sta in Milano In Lombardia Può venire A vedere La partita Dove? Alla salaria D'Eurosport Il Piazza Napoli Benissimo Piazza Napoli Benissimo Perfetto Pietro Grazie di essere stato con noi Ci sentiamo La settimana prossima E non ti chiedo Il risultato Del pronostico Per classico Perché porta male Però insomma Staremo lì A tifare Certo Va bene Va bene Pietro Grazie Buonanotte Buonanotte a tutti Ciao Ciao Pietro Allora Allora Sergio Invece Nel Ticino Che succede State tutti a casa O ci sarà un luogo Di ritrovo Allora Sai Come avevo detto prima Gli eventi sopra Le mille persone Sono vietati Quindi Ci troviamo Al bar Di un socio Che è a Minusio Il bar 100 a Minusio Sì Penso che Saremo Il 15-20 Come per l'ultimo Classico Senza cose Particolari La solita partita BBT Roba tranquilla Perché noi ceniamo Alle 6 e mezza Ah già Perché quello Un'altra cosa Noi ceniamo Alle 7 E non alle 11 Mangiate il primo Come a Napoli Dopo Che arrivo Mangiate solamente il babà Perché se sapevo Potevo cenare Mangiare completamente Certo Vabbè Quando voi cenate Max sta facendo Ancora colazione Eh questo è vero Esatto Io voglio Io poi c'ho gli orari No di Roma Quelli Iberici Quindi Quindi è ancora Ancora peggio Va bene Sergio Allora Questo bar Si trova dove? A Minusio Di Ciro a Locarno Non andiamo Nella sede principale Ma andiamo In questo locale Perché Allora Quindi questo socio Ce la fa vedere Salutaci Salutaci tutti I pegnisti Che verranno Il presidente Fernando E gli altri Della giunta Della giunta direttiva Ovviamente Vi saluto tutti Va bene Va bene Sergio io non ti chiedo Neanche a te il pronostico Dico solamente Però insomma Che Prima di chiudere Che Io dalla partita di Napoli Mi sono convinto Che Che i tempi Sono tornati Quelli Che io e te Conosciamo E che A noi non ci fa niente Ci dispiace per i giovani Però Bisognerà soffrire 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 Sempre soffrire Allora Se tu Vai proprio a vedere Quel link Dell'intervista Fatta a Carles Ordiale E a Mark Cornet Si Che parla proprio di questo In un passaggio Ah Dei soci Che Si attaccano Ai risultati No Sai dopo La domanda Era più o meno Dopo la trasferenza Di live Liverpool Sono diminuiti I soci Robavanna No Lo giocolo C'è sempre Lo giocolo duro Praticamente Dicono Ma Ci sono I risultati Fanno tanto Purtroppo Noi non dobbiamo Guardare i risultati Noi dobbiamo guardare La società Globalmente Certo Il risultato Fa comodo Anch'io dopo Liverpool Quando ho preso Quattro scopole Ero molto arrabbiato Si vive Si va avanti Si va a Napoli Si mangia Il babà E Si spera Che la società Possa andare avanti Nel migliore dei modi E vincere ancora Tanti titoli Sergi Sanchez Che salutiamo Cos'è